Se devi vendere il tuo iPhone o se vuoi regalarlo ad un amico o ad un parente o se semplicemente vuoi riportarlo allo stato di fabbrica devi eseguire un'operazione di reset che su iPhone si chiama inizializzazione. Con questa procedura che ti spiego fra poco vai a rimuovere il tuo Apple ID e questo permette al futuro proprietario di utilizzarlo con il suo senza problemi e senza blocchi. Se non lo rimuovi il futuro proprietario semplicemente non potrà utilizzare il tuo iPhone. Oltre a questo vai a cancellare tutti i dati, tutte le foto, tutti i video e tutti i documenti che ci sono nel tuo telefono e la procedura ripristina iOS alle condizioni di fabbrica quindi quando vai ad accendere nuovamente il tuo dispositivo dopo averlo formattato ti ritroverai fra le mani un iPhone nuovo e da configurare. Prima di procedere con il reset devi assicurarti però di effettuare il backup dei tuoi dati in modo da poter salvare foto, video, documenti, contatti, email e applicazioni e portarle sul tuo nuovo iPhone se ti servono. Per effettuare il backup è davvero molto semplice. Ti basta aprire le impostazioni del tuo iPhone, tappare in alto sul tuo nome, cliccare sulla voce iCloud, scorrere fino a metà pagina dove vedrai una voce che si chiama Backup iCloud e premere la voce Esegui Backup Adesso. Nella pagina precedente assicurati che siano attivi i backup di tutti i dati che ti servono. Dopo qualche minuto, magari anche una decina di minuti, il backup sarà completato e con questo backup potrai anche ripristinare il tuo iPhone qualora decidessi di continuare ad utilizzarlo oppure potrai portare i dati sul tuo nuovo iPhone in fase di configurazione. Un'altra cosa che ti consiglio di fare è il backup delle chat di WhatsApp in modo tale da averle tutte quante pari pari quando andrai a configurare il tuo numero di telefono sul nuovo dispositivo. Per fare il backup delle chat di WhatsApp, apri appunto l'applicazione WhatsApp, portati su Impostazioni, qui clicca sulla voce Chat, qui in mezzo vedrai la voce Backup delle chat, cliccaci e poi semplicemente clicca di nuovo Esegui Adesso Backup. Dopo qualche minuto il backup verrà semplicemente completato. A questo punto, se sei sicuro di aver salvato tutti i dati che ti servono, possiamo procedere con il Reset del tuo iPhone. Ok, a questo punto siamo pronti per formatare il nostro dispositivo. Apriamo le impostazioni e scegliamo la voce Generali. Scorriamo verso il basso fino alla voce Trasferisci o inizializza iPhone. Qui abbiamo tre possibilità, c'è la voce Preparati per un nuovo iPhone che ci permette di passare agevolmente tutti i dati sul nostro nuovo iPhone qualora ne avessimo acquistato uno. Alternativamente possiamo cliccare la voce Ripristina, che va a ripristinare un backup di iCloud fatto in precedenza e poi troviamo la voce che interessa a noi Inizializza contenuto e impostazioni. Ci clicchiamo ed attendiamo un attimo. Qui l'iPhone ci spiega cosa viene effettuato, ci dice che viene inizializzato l'iPhone, viene disconnesso l'Apple ID e vengono rimossi tutti i nostri dati. Ed abbiamo anche il dettaglio di cosa verrà rimosso. Verranno rimossi 67 GB di dati, il mio ID Apple e la funzione dov'è. Clicchiamo su Continua ed inseriamo il codice. Qui ci verrà nuovamente richiesto di effettuare il backup dei dati. Inizializziamo comunque perché abbiamo già eseguito il backup. A questo punto ci viene richiesta anche la password del nostro ID Apple. Ed infine ci viene richiesta nuovamente la conferma per inizializzare il nostro iPhone. Dopo qualche minuto il dispositivo sarà pronto e sarà nuovamente configurabile. Ed ecco qui il nostro iPhone resettato, formattato, con tutti i dati cancellati e pronto per essere configurato nuovamente. Spero che il video ti sia piaciuto e che ti sia stato utile. Se è così ti chiedo la cortesia di mettere un bel mi piace qui sotto e di iscriverti al nostro canale. Ti garantisco che per te è gratuito ma per noi è un grandissimo riconoscimento. Vi lascio qui sotto in descrizione il link con la guida testuale completa con qualche dettaglio tecnico in più e qualche spiegazione in più se dovesse servire. E poi se devi acquistare un nuovo iPhone ti lascio anche la guida all'acquisto dei nuovi iPhone in modo tale che tu possa scegliere il modello perfetto per le tue esigenze. Da Vittorio Tiso per Autosbeat è tutto. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.